Microsoft 365 è l'evoluzione di Office 365. Nuovo nome, più funzionalità, stesso prezzo. E ancora oggi possiamo affermare che ogni dispositivo ha bisogno di Microsoft 365. Sì, hai capito bene. Ogni tuo PC, Mac, smartphone, tablet, può sfruttare i vantaggi di Microsoft 365. Con Microsoft 365 ottieni subito le app di Office che già conosci e usi, come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, con funzionalità esclusive e nuovi aggiornamenti ogni mese. Avrai inoltre accesso a un terabyte di spazio di archiviazione cloud su OneDrive, compatibile con qualsiasi sistema operativo, per accedere, modificare e condividere i documenti e le foto su tutti i tuoi dispositivi, tenendo sempre al sicuro i file. È anche un'ottima soluzione per espandere la memoria del tuo dispositivo. Avrai un'assistenza tecnica dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutarti in qualsiasi momento, sia con Microsoft 365, sia con Windows 10. Inoltre, grazie al Microsoft Account, potrai installare Microsoft 365 su ognuno dei tuoi dispositivi. Microsoft 365 è perfetto per aiutarti sia nella tua vita personale, sia in quella lavorativa, su qualsiasi dispositivo utilizzerai. Crea presentazioni e documenti migliori con le funzionalità di intelligenza artificiale integrate. Trova e importa rapidamente le informazioni pertinenti senza mai lasciare il tuo documento. Usa Idee per progetti per ottenere suggerimenti intelligenti per impaginare perfettamente documenti e presentazioni. Inserisci foto, video, icone e immagini in alta definizione nei tuoi documenti, attingendo a un archivio di migliaia di contenuti dedicati a te. Evita di creare documenti da zero, utilizzando i modelli professionali preimpostati di Office e modificando a tuo piacimento file per curriculum, budget delle spese, brochure, ricettari e tanto altro. La continua evoluzione di Microsoft 365 ti darà anche accesso alle nuove applicazioni che verranno aggiunte al pacchetto. Ad esempio, Family Safety, con cui puoi monitorare la sicurezza della tua famiglia sia nella vita virtuale sia in quella reale, creando sane abitudini digitali, impostando i limiti di tempo davanti allo schermo, i siti web consentiti e condividendo la posizione dei membri della tua famiglia. Oppure Microsoft Teams, pensata ora anche per le attività non lavorative, con cui potrai organizzare la tua vita personale creando gruppi di amici e familiari, calendari condivisi, sfruttando Spazio Cloud per caricare e condividere file e tanto altro. Scegli la versione di Microsoft 365 più adatta alle tue esigenze e accedi subito al servizio. Microsoft 365 Family, per condividere la licenza fino a 6 persone, o Microsoft 365 Personal, pensato per uso personale. E ricordati che se acquisti Microsoft 365 insieme a un dispositivo idoneo, otterrai 3 mesi di abbonamento extra, ovvero il 25% di valore in più. Scopri come ottenere i tuoi 3 mesi extra in base al rivenditore dal quale acquisti Microsoft 365. Ciao!